benvenuti benvenuti alla diretta di oggi conclusiva della nostra campagna elettorale una diretta che serve soprattutto a ringraziare tante persone che hanno sostenuto la campagna elettorale chi è arrivata anche la piccola mia mettiti eccoci qua siamo siamo in diretta con tanti amici che stanno arrivando vedo in tanti primi sono gli umbri marco sciamanna e diego esposito laura toffoli e barbara mohi vieni qua fatti vedere piccolina tu sei quella che è stata vista un po meno perché stavi sempre a scuola in questi giorni e invece eccoci qua il pdf è questa cosa qui insomma poi alla fine è una figlia che si appassiona addirittura alle dirette facebook diciamo saluto giovanni fiori emanuela pongiluppi hai visto che una bimba è rimasta clara c'è clara c'è grazie a flaminia longobardi andrea brenna luca scotti questo è quello che tanti di loro vedi hanno portato in queste giornate alla conoscenza delle persone cioè il programma del popolo della famiglia puoi leggere noi non è che abbiamo scritto solo un no un volantino noi abbiamo avuto l'ardire di presentare un programma in quattro facciate scritte piccole con tutte le nostre idee non abbiamo parlato solo di guerre di potere noi abbiamo parlato anzi non abbiamo parlato per niente di potere abbiamo parlato di cose da fare e questo caratterizza un po il popolo della famiglia rispetto agli altri partiti e noi siamo popolo e quindi il popolo vuole sapere cosa facciamo davvero c'è anche scritto vero e infatti abbiamo presentato questo all'attenzione dei nostri amici di chi ci vorrà votare domani domani è una giornata molto importante per il popolo della famiglia sai tutte le persone vanno a votare e tu non puoi votare perché hai 9 anni bisogna avere anzi 8 anni e 10 mesi ormai ma bisogna avere 18 anni per andare a votare tutte le persone di almeno 18 anni possono andare a votare anche livia può andare a votare infatti e allora saluto Gianluigi Veronesi dai Mirko De Carli è arrivato insieme a Nicola Di Matteo forza amici in missione un grazie di cuore a tutti Valentina Baldacci da Trieste Paul Freeman sempre fondamentale per gli stimoli intellettuali che ci fornisce l'aiuto che dà al pdf ti ha fatto rire t'hanno chiamato la mascotte la mascotte t'hanno chiamato Flamina Longobardi Piera Giacometti Marco Lentini e allora è stata una faticata una grande faticata come dice Mirko Fanizzi vecchio amico mio è una faticata per tutti una faticata anche la nonna è arrivata a guardarci anzi se posso chiedervi visto che è la nostra diretta conclusiva fate un like alla diretta e un condividi sul vostro profilo la condivisione permetterà che la diretta sia vista da più persone possibile quindi like alla diretta proprio ora e una condivisione sul vostro profilo cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo fare domani andare a votare per il popolo la famiglia molto semplice ma anche in questa giornata convincere tanti indecisi perché tante persone non sanno per chi andare a votare allora suggerisco a tutti riprendere il proprio i propri contatti messenger i propri contatti whatsapp no 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 non si fa così e mandare una comunicazione diretta e personale diretta e personale non spammare chi spamma non funziona come dice Nicola Di Matteo bisogna fare la telefonata anche poi è difficile fare 5.000 telefonate però tanto si manda il messaggio poi anche il rinforzo di una telefonata per chiedere il voto al popolo della famiglia perché perché noi non abbiamo avuto gli strumenti di tutti gli altri che hanno avuto 8.000 minuti di televisione per ogni 8.000 minuti di televisione degli altri partiti noi abbiamo avuto 8 quindi la nostra diciamo battaglia è ad armi impari però possiamo avere questa capacità di militanza in più questo surplus di militanza facendo sì che le nostre proposte che poi sono state copiate da tutti avrete notato il reddito di maternità è diventato uno strumento copiato da tutti a questo forse anche il nostro merito aver inserito nel dibattito politico una serie di temi che non ci sarebbero stati quindi siamo comunque orgogliosi anche di essere copiati è arrivata Paola Belletti la saluto Alessandra Mondelli Federico Pieroni Anna Ciappa dice vedi che sei bellissima Giovanni Pennella salutiamo dunque tutti gli amici e quello che dobbiamo fare è in questo momento cercare di recuperare gli indecisi Chiara Sam ci ha già votato pensa perché lei vota in Austria e quindi votando in Austria ha già votato popolo della famiglia almeno un voto grazie a Chiara l'abbiamo avuto già avuto votato di sabato da Chiara grazie Chiara per aver votato popolo della famiglia ora il lavoro è davvero quello di cercare di raggiungere tutti i tanti indecisi vi assicuro che 40 italiani su 100 in questo momento hanno deciso di non andare a votare o non sanno chi votare ebbene 40 su 100 vuol dire che sono più o meno uno su due di quelli che incontrate per strada dunque cerchiamo davvero di costruire un livello di consenso che vada oltre le nostre speranze Rachele Sagramoso ha detto vota per noi anche la sua nonna di 92 anni ecco questo è l'enorme contributo che si può dare in queste ore al popolo della famiglia convincere anche le nonne di 92 anni di andare a votare e votare popolo della famiglia saluto Giuseppe Capezzuto che si è impegnato a Darzano che è un territorio non semplice della Campania grazie per tutto il lavoro che è stato fatto un saluto anche a Rita Mesiti a Domenico Trombino a Luigi Ficocello e di Federico Pieroni anche racconta che ha incontrato un amico di giochi di infanzia e questi meccanismi sono quelli che non ti aspetti tante persone che hai perso di vista in queste ore è normale che possano essere richiamate e magari se hanno stima per noi possano arrivare a votarci decidendolo proprio oggi quindi oggi è la decisione è la giornata in cui tutti dobbiamo farci l'atori del messaggio del popolo della famiglia che conosciamo bene con le nostre proposte che conosciamo bene con il programma che abbiamo distribuito e che è liberibile anche sul sito ilpopolodafamiglia.net con tutto il lavoro che c'è da fare in queste ore propagandando un'idea gli altri hanno avuto le televisioni per mesi e mesi noi abbiamo lo strumento della nostra militanza saluto Riccardo Giubilei un bocca al lupo che ci fa l'in bocca al lupo Laura Toffali dice che il suo voto ce l'avremo di sicuro vogliamo anche i voti dei tuoi amici e dei tuoi familiari la Pongi Luppi dice che votano la Dinolfi nell'Italia centrale meno male mi devo ricordare di fare questa cosa Silvio ha fatto un post ricordando che bisognerebbe fare persino un po' di propaganda per la mia preferenza cosa che non ho mai fatto magari più tardi farò un post chiedendovi anche il voto di preferenza ma insomma non è importante la cosa importante davvero è mettere la croce sul simbolo come dice Nicola Di Matteo informando tutti che si può fare fino alle 22 30 di domani quindi dobbiamo stare ventre a terra oggi e fino alle 22 30 di domani poi alle 23 diciamo il il tempo sarà scaduto perché i seggi si chiudono c'è Davide Trani che fa una domanda interessante i tuoi capelli sono veri ora non so perché tutta la campagna elettorale c'è stato chi si è incuriosito ai miei capelli se erano tinti se era un parrucchino ora mi pare abbastanza evidente chi mi conosce insomma sa che ho una grande no capigliatura folta anche difficile da governare quindi figuriamoci se potrebbe essere un tupè però insomma mi fa piacere poterlo smentire in diretta insomma ecco vedete io posso tirare questa è la radice dei miei capelli sono miei tutti miei e non sono bianchi non ci posso fare niente una punta di barba si è imbiancata ma i capelli ecco avevo cercato di dare un ordine oggi alla situazione ma i capelli sono i miei e tutti colorati diciamo di loro non sono stati tinti ecco se potete lo ripeto un like alla diretta e un mi piace no mi piace sì mi piace la diretta è una condivisione sul vostro profilo fate sapere a tutti che siamo in diretta in questo momento grazie elisabetta montanelli che mi dà diciamo atto che sono capelli da leone o cecilia bini dice finalmente qualcuno che torna ai capelli il vero tema delle dirette di mario insomma però davvero guardate tutte le mie apparizioni televisive si sono chiuse con gente sui social che diceva c'è il parrucchino c'è il tupè si tinge i capelli è una cosa incredibile è una cosa che poi mi manda i manti vi potete immaginare io che mi metto a tingermi i capelli cioè neanche li pettino figuriamoci tingerli insomma e allora fare gli ultimi sacrifici come non molla mai nicola non molla proprio mai non si rilassa mai adesso diciamo nicola tranquillo adesso tutti faranno quello che bisogna fare lo abbiamo detto lo abbiamo detto perché lo facciamo perché è importantissimo ne va di tutta la nostra campagna ed è proprio in queste ore che si decide quello che facciamo è quello che determinerà il nostro risultato perché lo ripeto noi non abbiamo avuto l'esposizione mediatica anche se ne abbiamo avuto abbastanza molta di più rispetto alle elezioni politiche però evidentemente è imparagonabile rispetto a quella che abbiamo avuto che hanno avuto gli altri partiti principali però noi abbiamo questo il programma sono molto orgoglioso che voi abbiate distribuito e fatto conoscere il programma nostro in interezza che è una cosa complessa ma abbiamo sempre detto il popolo famiglia non vuole stare sul piano degli slogan ma ha la dimensione del fascino della complessità noi vogliamo spiegare che rispetto a problemi complessi esistono soluzioni complesse e abbiamo l'ambizione di spiegarle tecnicamente alle persone così abbiamo potuto maturare una proposta di legge come il reddito di maternità così abbiamo potuto valutare come fare a farlo diventare realtà e abbiamo scelto l'articolo 71 della costituzione abbiamo fatto la procedura con la corte di cassazione cioè abbiamo scelto tutta una serie di passaggi che nascono dallo studio che nascono dallo studio noi non facciamo slogan non diciamo frasi fatte noi studiamo elaboriamo ogni giorno per esempio per il quotidiano la croce cerchiamo di far arrivare idee e adesso costruire idee è anche per chi fa politica trovare consenso su queste idee danilo bassan dice ti vedo finalmente più sereno sarò sereno la sera del 26 comunque andrà voglio dirvi subito che qualsiasi sia risultato sarà un successo perché popola famiglia avrà dimostrato di esserci ovviamente migliore sarà il risultato più saremo contenti non è solo il risultato dell'europea che conta è fondamentale quello che accadrà anche alla regione piemonte quello che accadrà alle alle amministrative dove siamo presenti in particolare la regione piemonte lo ricordo fa lo scrutinio dalle 14 del lunedì quindi voi avrete un mio commento diciamo organico al risultato del popolo della famiglia solamente il la sera di lunedì e poi troverete l'editoriale sulla croce di martedì quella sarà la valutazione la valutazione del nostro risultato si compone del risultato alle europee risultato alle regionali piemontesi risultato alle amministrative perché la nostra presenza è diciamo così dislocata su questi tre fronti quindi sicuramente domani notte avremo un primo elemento di risultato riguardo alle europee ma poi ci sarà da valutare importante quello che accade con l'impatto per Walter Boero candidato presidente della regione e con tutte le liste penso a Perugia vedendo Federico Pieroni dove ci siamo candidati per esempio a Perugia da soli contro tutti con il nostro candidato sindaco sono tutti risultati che vogliamo cercare di mettere insieme per dare poi una valutazione complessiva del voto ma già adesso mi sento di dire il popolo della famiglia c'è il popolo della famiglia ha dimostrato di essere un soggetto politico di questo paese con le sue idee originali tanto originali da essere copiate il popolo della famiglia sarà un soggetto politico determinante per le prossime elezioni politiche questo è il risultato che già avete raggiunto con la militanza che è stata svolta negli ultimi sei mesi dal pdf in tutto il territorio nazionale ora però serve rendere più corposo possibile il nostro risultato è veramente vitale fare il lavoro che insomma oggi questa diretta sarà vista da qualche migliaio di persone se qualche migliaio di persone dovesse fare quello che noi indichiamo come dirigenza nazionale cioè con la messaggistica whatsapp personalizzata la messaggistica messenger personalizzata le telefonate singole che dice nicola di matteo bene pensate credo questa diretta farà la fine 5.000 6.000 persone se ognuno portasse anche solo 100 voti attraverso questo meccanismo noi avremmo triplicato il risultato delle elezioni politiche pensate che tipo di di importanza avrebbe questo tipo di risultato quindi davvero invito tutti caldamente prima cosa a fare un like a questa diretta insomma per darci anche un applauso che io rivolgo a voi che tutti noi ci rivolgiamo insieme per quello che abbiamo fatto un like alla diretta una condivisione sul vostro profilo affinché più persone possano guardare la diretta stessa gabbiele corda dice siamo 107 contemporanei 107 in questo istante in questo istante 113 però complessivamente nell'arco dei circa 40 minuti di diretta che faremo considerato anche quelli che li vedranno inevitabilmente indifferita il livello di persone che guarderà questa diretta sono circa 5 6.000 sono più o meno i militanti del popolo della famiglia effettivi sul territorio nazionale ecco se noi questi 5 6.000 militanti li vediamo trasformati ognuno nella capacità di portare 100 voti noi abbiamo triplicato il risultato delle politiche se triplichiamo il risultato delle politiche succede un terremoto un terremoto nel nostro paese ora io non mi aspetto che noi triplichiamo però insomma sarebbe ben felice se vi dessi avanzare il popolo della famiglia o almeno mantenere le posizioni che abbiamo ottenuto così faticosamente il 4 marzo scorso noi abbiamo la possibilità anche di crescere il dato importante dunque ora è di mobilitazione tecnica di fare alle 16 vi ricordo i rappresentanti di lista si devono presentare nei seggi cioè andare nel seggio portare la delega per essere qualificati come rappresentanti di lista oggi alle 16 mi raccomando poi lo ripeto domani sarà giornata di mobilitazione cercate anche di portare aiutare le persone che non ce la fanno ad arrivare ai seggi penso agli anziani penso ai più affaticati penso ai disabili mettetevi a disposizione del territorio per far arrivare le persone al seggio cerchiamo dunque di fare davvero tutti i passaggi tecnici la campagna elettorale non si è chiusa ieri a mezzanotte da ieri non si possono appendere i manifesti sulle sulle plance ma la nostra campagna elettorale continua possiamo fare quello che stiamo facendo perché i social come sapete sono deregolamentati dunque facciamo quello che c'è da fare in questo momento e lo continueremo a fare fino al 20 qua alla domani alle 22 e 30 perché è necessario che il nostro sforzo non si spenga proprio ora in cui le persone stanno decidendo tecnicamente chi votare al parlamento europeo noi presentiamo una classe dirigente di enorme livello i candidati sono sinceramente insomma l'italia migliore i nostri candidati rappresentano l'italia migliore ho citato ieri su facebook oggi sulla croce nell'editorialino il caso di gela dove noi proprio pochi giorni fa abbiamo preso il 5,64 per cento e leggendo due consiglieri comunali avendo adesso diritto a un assessore bene il nome che abbiamo indicato come assessore neanche è stato nominato ma già sta lavorando per alleviare le difficoltà dei disabili sul territorio gelese ora questa è la modalità con cui noi viviamo noi viviamo la politica come servizio al bene comune non la viviamo come dimensione di occupazione di una poltrona quindi il lavoro che adesso dobbiamo compiere è il lavoro di rendere sempre più forte il popolo la famiglia non date retta a chi come alessandro scaccianoce dice attenti al 4 per cento il problema non è il 4 per cento il tema è si vuole rendere fondamentale una forza politica che presidia principi non negoziabili da si vuole rendere punto di equilibrio del sistema questa è la grande occasione il 26 maggio se il popolo la famiglia cresce diventa punto di equilibrio del sistema se cresce molto stupisce l'italia regala una sorpresa a questo paese e tutti si chiederanno come mai perché e allora è fondamentale visto che le sfide sono dietro l'angolo vi ricordo che il 24 settembre senza interventi della politica e la politica dei partiti che ci copiano le idee è su questo muta il 24 settembre in italia rischia di essere depenalizzata l'eutanasia con il suicidio assistito per non far andare in galera marco cappato dalla corte costituzionale vogliamo dare un segnale vero pro life l'unico segnale vero pro life che lascerebbe l'italia a bocca aperta è l'esplosione di consenso al popolo della famiglia è l'unico segnale politico che si possa dare perché per esempio sul territorio dell'eutanasia non dico una parola nessuno nessuno fa atti politici anche sulla famiglia avete visto che i provvedimenti promessi come al solito con tanto di tavoli contro tavoli alla fine si sono rivelati il nulla cioè niente niente zero hanno fatto finta di fare un decreto hanno fatto finta di fare proposte hanno fatto finta di fare emendamenti col ministro della famiglia il risultato finale è stato zero lo dico al mio amico gigi repalo che ogni santo anno che ci sono le elezioni fa questa recita di andare a incontrare i partiti principali quali in tutti si impegnano a fare chissà che il giorno dopo le elezioni spariscono e il forum delle famiglie non ottiene mai niente la prossima volta caro gigi conviene fare sponda con il popolo della famiglia se fai sponda con il popolo della famiglia magari anche quei partiti si svegliano prima perché come sai noi siamo soggetto politico assolutamente interessato a costruire un percorso con il forum delle famiglie gli altri vogliono solo su chiari voti che tu in qualche modo cerchi di rappresentare e allora questo purtroppo ti porta sempre a fare lo stesso errore fare le foto con di maio fare le foto con gli amici di zingaretti e gli amici di meloni e gli amici di salvini serve solo a non far ottenere mai mai alle famiglie italiane alcun vantaggio lo hai già fatto questo errore alle politiche lo hai fatto anche adesso alle europee ecco il popolo della famiglia è qui a ricordare che c'è una sola maniera per far diventare davvero forti le politiche pro family far arrivare il popolo della famiglia più avanti possibile e se oggi si rafforza il popolo della famiglia al parlamento nella nelle elezioni per il parlamento europeo alle prossime politiche non potrà essere ignorato per la costruzione di una maggioranza dove noi saremo i portatori di quelle istanze pro family che tutti gli altri dicono di voler sostenere a parole ma poi nei fatti come avete visto e non lo sto dicendo io come avete visto sono chiacchiere vuote perché alla fine dei giochi non c'è decreto non c'è emendamento non c'è un euro messo in finanziaria non c'è un recupero di nessun miliardo di euro avanzato dal reddito di cittadinanza non c'è niente quindi se si vuole fare seriamente le politiche pro family si può e si deve passare solamente dal consenso al popolo della famiglia di più se si vuole difendere la vita e ripeto siamo su un crinale pericolosissimo perché queste europee sono anche le europee in cui dal nord europa arriva l'idea mortifera dell'eutanasia generalizzata e del suicidio assistito se si vuole difendere l'italia da questa aggressione anche giuridica di inserimento nell'ordinamento giuridico di un vulnus che noi non possiamo accettare beh dobbiamo rafforzare il popolo della famiglia perché davanti a un risultato straordinario del popolo della famiglia dovessero chiedermi come mai siamo cresciuti così tanto la risposta che darei immediatamente è perché l'italia non vuole l'eutanasia perché l'italia non vuole diventare come quei paesi dove i vecchi invece di essere accolti dai figli e morire tra le loro braccia come elemento di gratitudine perché rappresentano la radice stessa del nostro essere vengono soppressi con una siringa di pentobarbital ecco questa è la differenza sostanziale vera è la civiltà vera che va in conflitto in queste elezioni europee avete visto in più di una foto che ho pubblicato joanna benedetta la mia ultima nata quella che ha sei mesi ma serve a me serve a dire che non voglio far crescere joanna benedetta con una cultura in cui si dice che sopprimere i genitori anziani è un bene per i genitori anziani perché purtroppo per le politiche di welfare che derivano dal fatto che joanna benedetta un'aspettativa di vita di 104 anni il mondo cercherà di convincere questi ragazzi che la eutanasia generalizzata degli anziani sia un bene pensate che in olanda la sinistra olandese ha già presentato un disegno di legge in cui afferma che gli ultra settantenni non devono essere curati dal servizio sanitario nazionale non è una una mia butarde per spaventare nessuno andate su google e verificate la sinistra olandese ha proposto che gli ultra settantenni non siano curati dal servizio sanitario nazionale tenete a mente cosa significa questo tenete a mente cosa significa per i vostri genitori io ce l'ho avuto un genitore morto a 73 anni non essere curati dal servizio sanitario nazionale adesso un genitore di 74 anni immaginate cosa significa non avere la possibilità di avere la cura per queste persone queste barbarie come dice bene cecilia bini esattamente barbarie ma la barbarie dietro l'angolo è dietro l'angolo è dietro l'angolo perché joanna benedetta quella bellissima bambina che avete visto attesa aspettativa di vita di 104 anni e allora per far reggere le colonne del welfare devono sgredolare il sostegno ai più deboli è inevitabile è inevitabile a meno che non passa una cultura pro life come la nostra noi siamo il presidio assolutamente il presidio affinché il 24 settembre non avvenga qualcosa di terrificante nel nostro ordinamento giuridico cioè l'introduzione di norme che sono pedicolosissime per la nostra civiltà grazie a manuela pongiluppi che ha pubblicato il testo sulla sinistra olandese e sulle sue proposte per abbattere sostanzialmente gli ultra settantenni non ricchi perché i ricchi si rivolgerebbero alla sanità privata quelli senza la possibilità morirebbero senza cure immaginate che follia bene io voglio davvero rendervi chiaro quanto è importante dunque il voto al popolo e alla famiglia e dunque quanto è rilevante il lavoro che faremo in queste 24 ore e nelle prossime per portare più consensi possibili di indecisi sul voto al pdf se trovate persone che hanno già deciso di votare per altri inutile perderci tempo andate a caccia delle persone indecise delle persone che non vogliono andare a votare il 40 per cento delle persone in questa condizione tra astensione e indecisione vuol dire uno su due di quelli che incontrate per strada e allora serve far sì come dice luca dossi che i voti al pdf pochi o tanti saranno tutti benedetti dal cielo siano una benedizione per questo paese tanti però bisogna che siano tanti meglio tanti che pochi diciamo così a prescindere dal voto al pdf gli altri partiti se ne sono accorti il tema famiglia è diventato centrale grazie a noi perché ci hanno copiato e saccheggiato persino le singole frasi che ho pronunciato in campagna elettorale lo sapete non devo stare ad elencarle fanno proprio taglia in colla delle frasi attratte dai miei libri dai miei discorsi ed è abbastanza imbarazzante per certi versi però questo è un bene perché vuol dire che le idee che abbiamo portato avanti sono idee forti e sensate si vede quando devono avere un'opinione sulla famiglia a costoro noi gliene forniamo una e tutto sommato va bene così ma sapete che il centro motore di elaborazione e costruzione di idee prima di tutto di idee per le politiche familiari a difesa della vita è qui è nel popolo della famiglia quindi adesso bisogna dare ogni sforzo per rafforzare significativamente il voto al pdf facendo anche tutto ciò che è tecnicamente necessario lo ripeto messaggistica whatsapp messenger oggi alle 16 consegna della presenza dei rappresentanti di lista nei seggi mobilitazione anche per accompagnare le persone al voto nella giornata di domani e sia oggi che domani telefonate 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 in cui le persone possano sentirvi e sentirvi chiedere il voto per l'italia migliore oggi ho dovuto titolare l'editorialino della croce proprio così la scelta migliore noi non stiamo chiedendo il voto a un sistema di potere come è evidente ma stiamo chiedendo di votare le persone migliori che possano rappresentare l'italia in europa quando penso che 42 miliardi di euro stanziati dall'unione europea sono andati sprecati perché l'incapacità delle classi dirigenti ha fatto sì che se ne spendesse solo il 13 per cento beh mi piange davvero il cuore questo paese avrebbe drammaticamente bisogno di tutti quelle decine di miliardi di euro che sono state gettate via e serve però una classe dirigente consapevole per fare sì che tutti i fondi europei vengano assorbiti dal territorio pensate che 42 miliardi di euro sono andati buttati perché le classi dirigenti nazionali e locali sono stati incapaci neanche solo di elaborare progetti ma anche solo di fare le rendicontazioni dei progetti stessi beh è davvero qualcosa che fa capire perché in europa serve davvero una voce preparata competente autorevole come quella del popolo della famiglia cerchiamo di essere dunque come sempre compatti a testugine compatti a testugine e andare tutti ai nostri posti di combattimento perché ora sì ora siamo in battaglia come sapete è una battaglia determinante molti pensavano che non saremmo arrivati fino a qua ancora una volta dicevano il popolo della famiglia non ce la farà e invece siamo qui siamo sempre qui nonostante tutte le maledizioni tutte le diciamo così i tentativi di farci fuori e noi siamo sempre qui alla fine la nostra tenacia che è la caratteristica fondamentale della nostra azione sul territorio per cui ci hanno visto sotto la pioggia sotto la neve raccogliere le firme per il reddito di maternità che sarebbe una bomba rivoluzionaria che cambierebbe completamente la questione della denatalità la travolgerebbe e contemporaneamente travolgerebbe anche la cultura moltifera dell'aborto pensate che invenzione geniale che è stata il reddito di maternità che voi con la vostra capacità di territorio avete reso fattibile fattibile grazie alla raccolta firme che avete compiuto in questi sei mesi anche nelle situazioni più disagevoli possibili noi abbiamo questa bellissima opportunità di trasformare tutto questo lavoro tutta questa fatica in una ondata di consenso al popolo della famiglia questa opportunità dobbiamo assolutamente cogliere lo ripeto le migliaia di persone che avranno intercettato questa diretta oggi diventino ripetitori del messaggio e allora un like alla diretta un condividi sul tuo profilo ma soprattutto prendete l'agendina tutti i contatti messenger tutti i contatti whatsapp ricevano un vostro messaggio personalizzato in cui richiedete il voto all'italia migliore mettete il simbolo del popolo della famiglia e fate loro capire molto semplicemente come devono votare senza predicorsi senza 50 righe di messaggio messaggio breve e chiedete il voto ai vostri conoscenti che essendo vostri conoscenti nel whatsapp o nella vostra agenda telefonica sicuramente in qualche modo hanno stima di voi quindi adesso è questo il passaggio da fare e poi prendete il telefono e chiamate tutti quelli che pensate possano diventare anche dei a loro volta dei ripetitori e quindi diventare a loro volta sostenitori attivi del popolo della famiglia mirco de carli ieri ci ha riferito lo scrive anche qui in chat che aldo brandirali che è una figura storica di comunione liberazione ha detto che il popolo della famiglia è un miracolo e questo è un ringraziamento che lui ha rivolto al popolo della famiglia e noi ringraziamo tramite mirco de carli aldo brandirali per questa bellissima definizione perché davvero lo siamo perché abbiamo lottato con le unghie senza un euro senza copertura mediatica senza sostegno sostanzialmente da parte di nessuno con la nostra convinzione con tanto fuoco amico e nemico che cercava continuamente di demoralizzarci in più ci hanno copiato le idee ci hanno preso le questioni centrali hanno fatte diventare striscioni però non sono riusciti a sembrare sinceri ve ne siete accorti quando ne parlano sembra sempre suona sempre moneta falsa quando si parla con noi si capisce che noi siamo persone che ci credono è una differenza sostanziale è una differenza sostanziale che vedrete peserà nelle urne il 26 maggio se noi saremo così bravi ora di far pesare la nostra sincerità nell'incontro con le persone in queste 24 36 ore che ci restano prima dell'esito elettorale dunque la nostra forza è anche nella verità come sempre la nostra forza è nell'essere sempre collegati a una dimensione di verità vedo arrivare don ottorino baronio che i sacerdoti i religiosi le religiose che si sono avvicinate al popolo la famiglia hanno sempre misurato come totalmente sincera incapace di sovrastruttura per per certi versi saluto massimiano esposito grandissimo capataz della circoscrizione meridionale senza di lui non ce l'avremmo fatta e dunque un abbraccio forte per il ruolo importante che ha fatto e anche per alcune meravigliose logandine che stiamo ancora tutti utilizzando anna ciappa dice lassù qualcuno ci ama ci ha reso forti anche io lo credo davvero lo credo davvero è andata così qualcuno ci ama ci ha reso forti davvero saluto silvestro vultaggio che ci saluta dalla svizzera silvio restelli colonna il pdf a milano maria dovidio dice la verità ha un suono diceva un mio amico forza pdf esattamente la verità ha un suono è esattamente così difendere la vita sempre è quello che facciamo salutiamo domenico e laura difendere la vita e far sì che non arrivi la norma contro la vita che la corte costituzionale sta preparando lo ripeto 24 settembre è meno di cinque mesi da oggi oggi il popolo famiglia esplode e se esplode blocca l'operazione che sta preparando la corte costituzionale perché diventa stimolo per tutto il mondo politico o altrimenti penseranno che possono fare quello che già hanno deciso di fare cioè depenalizzare suicidio assistito e eutanasia cosa che noi non vogliamo perché noi siamo vicino ai sofferenti ai più deboli e non diamo loro una silinga di vento barbital ma se possiamo un abbraccio in più riflettete sempre che contro quei soggetti quelli che vogliono ammazzare l'operazione fondamentale è rompere la dimensione familiare se non ci fosse la famiglia le persone sarebbero uccise molto più facilmente per questo c'è un attacco violentissimo contro la famiglia ricordatevi che vincent lambert è ancora vivo perché una sola persona una sola persona si è battuta fino alla morte per far vincere la vita e quella persona è sua madre sua madre una sola persona che non era però una persona sola perché poi tutti noi abbiamo lottato con lei e il suo vacato e tutte le persone tecnicamente hanno fatto le cose affinché vincent lambert sia libero e quello è un elemento chiaro di vittoria politica è la mobilitazione che ha fatto capire a macron che non conveniva uccidere vincent lambert a quattro giorni dalle elezioni europee è una tipica vittoria politica e lo stesso meccanismo dobbiamo innescarlo in questo paese è l'unico modo per innescarlo sappiatelo l'unico modo che tutti gli altri voti verranno valutati la lega forelli d'italia in termini di bande se comanderanno più col centrodestra o col cinque stelle ma l'unico vero voto che significa difesa della vita no ad aborto e eutanasia sia il credito di maternità bomba nucleare contro la denatalità l'unico voto che significa questo è il voto al popolo della famiglia quindi la crescita del voto del popolo della famiglia significherebbe dire a tutto il sistema italiano mediatico giudiziario e politico attenti ci sono centinaia di migliaia di italiani pronti a mobilitarsi per far sì che la cultura della vita non venga offesa da una norma criminale come quella che depenalizzerebbe suicidio assistito ed eutanasia è una battaglia da fare ora altrimenti tra meno di cinque mesi il 24 settembre riprendete questa diretta perché vedrete accadere esattamente quello che vi ho che vi ho profetizzato fatemi usare questa parola vi ringrazio davvero dunque per l'attenzione ora facciamo sì davvero di crescere e moltiplicarci facciamo sì che l'azione politica che svolgiamo da ora in poi sia esattamente concentrata all'ottenimento del consenso per il popolo della famiglia saluto anche andrew clemens che dice ci sono anch'io dall'australia tutti gli italiani che conosci devo ricevere un tuo whatsapp di indicazione del voto al popolo della famiglia federica lupi ha detto il nostro vescovo è contento che ci siamo ho citato altrove il gesto di aver baciato il santino quindi il nostro vescovo come tanti vescovi fatemi citare camisasca suetta seccia tanti tanti vescovi hanno sostenuto la battaglia ideale del popolo della famiglia noi siamo assolutamente grati per questa coraggiosa condizione che hanno avuto di esporsi su questo tipo di battaglia ora andiamo seriamente avanti con la necessità che abbiamo di far conoscere a tutti l'opportunità che c'è il 26 maggio cioè domani di cambiare completamente e di dare questo pugno sul piano inclinato quante volte l'ho detto per evitare che la pallina rotoli inevitabilmente verso il barato serve che tutti voi oggi siate pugno noi siamo testuggi lo diciamo sempre uniti a pugno per far saltare il piano inclinato ce la possiamo fare è nelle nostre mani adesso ovviamente nelle mani del signore come sempre noi portiamo i nostri cinque pani e due pesci e vediamo esplodere vedremo esplodere ne sono certo il risultato del popolo della famiglia domenica sera saluto laura rubini candidata consigliera a perugia maria cristina maculana flavia lanci saimir smali maria casiraghi siete arrivati in tantissimi e vi ringrazio davvero di aver partecipato a questa diretta la fondamentale lucianella presta detta luci lei sa perché marco trainito speriamo in una valanga di voti ludovico pontoni ci sono rappresentanti di lista in tutta italia si andranno a presentare alle ore 16 nei seggi americo mancini forza e coraggio domani giorno della rinascita della politica cristianamente ispirata flaminia lungobardi grazie a tutto il pdf un grazie davvero a ciascuno di voi cari militanti simpatizzanti dirigenti del popolo della famiglia noi abbiamo fatto quello che era necessario fare fare faremo ancora di più in queste ore grazie a ottavio deludio preziosissima nostra colonna a ciampino giovanni fiori ovviamente il nostro candidato fin dalle municipali di ostia fondamentale nel municipio del litorale romano e un abbraccio forte laura dice ho perduto mio padre a febbraio lui credeva molto in te e allora fatti sempre più attiva come militante anche per sostenere il ricordo di papà grazie a chiara ardente la nostra serafina che è meravigliosa e che si sta spendendo fino allo come ognuno di noi davide trani c'è come posso tesserarmi ecco per dare un sostegno perché abbiamo speso tanti tanti soldi al popolo della famiglia www.lacroce quotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e lì c'è il marketplace dove ci si può tesserare al popolo della famiglia anche con la testa sostenitore sarebbe tanto bello e c'è la possibilità anche di abbonarsi al quotidiano la croce che oggi ha una prima pagina meravigliosa quindi conviene abbonarsi anche solo per la prima pagina di oggi del quotidiano la croce per avere poi le elaborazioni di tutto il nostro percorso giorno dopo giorno e si accede anche abbonandosi a tutto l'archivio di mille numeri del quotidiano la croce pensate un po fabrizio intanto deve andare via lo saluto fabbio sebastianelli dice che l'impegno continua c'è la meravigliosa elena bentini che abbraccio un'ultima richiesta e faccio a tutti voi per favore ora e dico ora mettete come foto profilo in qualche modo il simbolo del popolo della famiglia all'europea per favore in qualche modo nel vostra foto profilo compaia lo dico a tutti i militanti dirigenti e simpatizzanti del popolo della famiglia il simbolo del popolo della famiglia europea solo per queste 36 ore ve lo chiedo per favore tra oggi e domani abbiate come vostra foto profilo il simbolo del popolo della famiglia in qualche modo se volete lo mixate al vostro volto ma insomma fate in modo che chi arriva sul vostro profilo in qualsiasi modo evidenzi abbia evidente il simbolo del pdf alle europee fatelo ora e per le prossime 36 ore lo mantenete così poi se volete alle 23 di domani rimettete la vostra migliore foto in cui siete venuti bene in posa diciamo così io come sapete ho da sempre come unica foto profilo quella del simbolo del popolo della famiglia dunque per favore fate questo gesto perché è fondamentale per la riuscita della nostra attività anche di messaggistica di queste ore quotidiano la croce non si può accedere senza essere abbonati è un quotidiano per abbonati vi ringrazio molto per l'attenzione a questa diretta fatela circolare più possibile un ultimo like se volete una condivisione sul vostro profilo poi prendete il link della diretta stessa mandatelo pure questa a tutti i vostri contatti messenger e whatsapp facciamo in modo che si sappia che siamo in mobilitazione fino all'ultimo istante della nostra fatica fino alle 23 di domani ricordatevi di fare una telefonata alle persone che possono diventare loro stesse terminali di un attivismo ulteriore per arrivare al voto al popolo della famiglia domani 23 poi ci faremo la nottata elettorale in cui daremo evidentemente le prime impressioni sui risultati ma lo ricordo a tutti la valutazione complessiva che darò del risultato elettorale del popolo della famiglia la farò solo lunedì sera dopo che saranno arrivati i risultati delle regionali del piemonte che per noi sono fondamentali anzi chiunque abbia amici in piemonte in queste ore segnali il voto per valter boero presidente e per la lista del popolo della famiglia lo voglio sempre ricordare è un passaggio fondamentale quindi la mia valutazione del risultato del popolo della famiglia la nostra valutazione sarà compiuta solo quando avremo anche i dati di tutte le amministrative e in particolare delle regionali piemontesi dove noi siamo impegnati in maniera così importante dunque lunedì sera poi avrete un commento organico da parte mia dell'andamento del nostro risultato elettorale che poi sarà anche l'editoriale della croce di martedì mi pare che ci siamo detti tutto un abbraccio forte davvero a ciascuno di voi grazie ieri era santa maria ausiliatrice il giorno che abbiamo chiuso la campagna elettorale come sempre che maria ci aiuti e ci protegga e i nostri cinque panni e due pesci sono lì adesso facciamoli diventare tanti ognuno arriva con i suoi cinque panni e due pesci poi se è giusto che siano moltiplicati da un miracolo da un ulteriore miracolo lo vedremo accadere e finora c'è stato sempre detto che è giusto grazie ad ognuno di voi ai posti di combattimento cara testuggine andiamo in battaglia a noi la battaglia addio la vittoria forza popolo della famiglia